Per noi non è importante un prato perfetto, per noi non è importante un prato finto. Noi vogliamo da sempre perseguire un prato sano, un tappeto erboso robusto, un giardino che sia semplice, facile nella gestione e conseguentemente bello. Quello che noi cerchiamo da sempre è un prato sano, bello. Ottoss, un prato sano e bello.